buongiorno a tutti sono andrea di matteo e sono fisioterapista ho seguito il corso di cmo ormai un paio d'anni fa e da quel momento devo dire che il mio modo di lavorare è cambiato parecchio hanno scardinato parecchie delle condizioni che avevo prima e mi hanno insegnato moltissime tecniche si spendono facilmente nella realtà quotidiana devo tanto ad ad essi o il marco perché comunque è stato per merito loro che mi sono appassionato all'osteopatia e alla terapia manuale in generale loro hanno oltre a una preparazione fuori dal comune una passione assolutamente smodata per quello che fanno se devo consigliare il corso io lo consiglio assolutamente e anzi addirittura io stesso l'ho rifrequentato più di una volta perché comunque voi o non voi ci sono tantissime sfumature e tantissime cose da imparare veramente tanta roba assolutamente positivo il mio giudizio ciao a tutti e andate a frequentare anche voi